Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio sulla FIPILI per lavori di ripristino di un incidente chiusa all'entrata dello svincolo di lastra assegna in direzione mare fino alle 16 di oggi pomeriggio. Per il cantiere aperto per i lavori di manutenzione al viadotto del Turboni possibili disagi tra Ginestra, Fiorentina e Montelupo, Fiorentino in entrambe le direzioni. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata e il ristringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in Pruneta. A Firenze in via Vineggia fino al 23 marzo per lavori di vieto di transito nel tratto via De Rustici numero civico 2. Forse Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!